Io non ce posso credere, questa cazzo di Serie A ci sta regalando delle emozioni veramente incredibili ragazzi perché il Napoli addirittura è riuscito a ribaltare una partita che gli esistava a mettere non a merda De più, 2 a 1 in questo momento sta per finire la partita ragazzi nel giro di qualche minuto il Napoli con Milik e con Diawara ribalta totalmente il match Ciao, vi saluto, bella a tutti ragazzi Siamo tornati con questo nuovo video perché mi sono giocato la schedina, i mortacci, non mi gioco più le schedine ragazzi il Crotone ha battuto 1 a 0 il Bologna e ci ho messo X2 Oggi Torino-Inter l'ho sbagliato e so 2 Ho sbagliato praticamente anche Verona-Cagliari perché ci ho messo X2 e guarda caso, i mortacci sta finendo 1 a 0 per il Verona A riprova del fatto che ormai, cioè quelle che stanno più sotto hanno vinto contro quelle che stanno più sopra Va bene? Non gioco più le schedine, mi sa che la settimana prossima vedo i consigli e io non me li gioco Così voi le beccate tutte e io smadonno Ma detto questo torniamo al momento clou, alla fase cruciale di questo campionato Perché qualora il Napoli non fosse riuscito a vincere e quindi a tenere il passo della Juventus Io credo che oggi sarebbe stato veramente molto difficoltoso recuperare 7-6 punti alla Juventus 4 punti sicuramente sono già un margine importante, l'ho detto in uno dei video precedenti Ecco l'ha finita adesso ragazzi Il Napoli è riuscito nell'impresa e la chiamo impresa anche se guardando sulla carta non doveva essere tale perché comunque col chievo io mi aspettavo una vittoria tranquillissima invece ha vinto ma a fatica Ripeto, in questo caso con la vittoria il Napoli si mantiene a meno 4 dalla Juventus e tiene vivo, tra virgolette, è aperto un campionato Col senno di poi potete di quello che vi pare perché dipende da quello che succederà nelle prossime partite Lo abbiamo visto oggi ragazzi con le squadre di più bassa classifica anche le grandi, le prime due sicuramente hanno trovato difficoltà a vincere oggi è successo alla Juventus ieri è successo al Benevento è vero che la Juventus ha scontri diretti più importanti squadre sulla carta sicuramente più forti rispetto al Napoli ma guardando ste partite io alzo le mani e dico vediamo quello che succederà giornata per giornata Mancano ancora 31 e 7 fa 38 7 partite c'è ancora lo scontro diretto vediamo con che divario arriveranno appunto allo scontro diretto è che là è finito pure il Verona bene ma sono contento così io preferisco sbagliare una schedina di tante partite io di solito ne sbaglio di una sempre ogni volta sbaglio per una cazzo di partita oggi ho sbagliato 13 partite sono contento vaffanculo perché così almeno non c'ho rimorsi va bene e niente che cazzo volevo dire mi sono scordato perché ripeto alla fine il Napoli tiene vivo il campionato non mi sono scordato no stavo a parlare del Napoli appunto del fatto che si mantiene a meno 4 dalla Juventus voglio sapere da voi se secondo voi il Napoli meritava la vittoria ma vi vado a leggere le statistiche di tiro perché comunque ragazzi poi ironia della sorte parlando il Chievo passa in vantaggio con un assist dei giaccherini che la butta dentro guarda caso uno scarto del Napoli manca falla apposta cioè proprio vabbè ma detto questo il Napoli ha sbagliato un calcio di rigore con Dries Mertens anche perché Sorrentino ha azzeccato un angolo non è che Mertens ha proprio sbagliato il rigore Sorrentino è stato bravo a beccare l'angolo giusto Sorrentino se sacco le grandi squadre se salta e fa le peggio parate è successo a noi da Roma un sacco di volte sono tutti tutti là da quando sta Sorrentino archivo è sempre una storia ogni volta ci giocamo contro e stasera stasera oggi pomeriggio l'ha fatto anche contro il Napoli quindi sì Napoli che sicuramente aveva la possibilità di andare in vantaggio con il calcio di rigore non è riuscito a sfruttare l'occasione ma poi appunto arriva il ribaltone la situazione che ormai non ti aspetti io credo che tutti ormai stavano piangendo soprattutto i diffusi del Napoli ovviamente quelli da io che stavano eeeh ce l'ho fatta invece no va detto male ragazzi miei il Napoli è stato bravo a ribaltare una partita che lo vede in svantaggio al settantatresimo minuto e poi ragazzi ottantanovesimo e novanta più cinque novanta più tre scusate Milik e Diawara la ribaltano completamente ma io voglio sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate se il Napoli meritava la vittoria avevo detto che vi dicevi di rimporta mi sono scordato non mi fa vedere aspettate un attimo aspetta eh allora statistiche 76% del possesso palla del Napoli contro il 24 del Chievo 31 tiri totali 12 nello specchio contro i 4 tiri 2 totali in porta da parte del Chievo voi direte ma le statistiche contano poco perché alla fine conta chi la butta dentro ormai sono d'accordo con voi perché tanto è capace che la prossima partita di Roma fa 176 tiri in porta 99 nello specchio arriva quella squadra che te fa un tiro un gol mi gratto le pall e vincono va bene quindi il calcio ormai è diventato anche questo non vi giocate più di schedine ciao bella a tutti